Le recenti restrizioni imposte dalla pandemia ci hanno costretto a rivedere tutta la nostra programmazione, quindi niente più incontri che facevamo in persona, niente più organizzazioni di convegni o visita mostre in città come Forlì, Padova, Bologna, non più incontri in presenza, come facciamo a stare vicini ai nostri associati? Ci siamo inventati questa trasmissione Generazione Silver per poter far sentire ancora la nostra presenza. Come tutti sanno ci sono stati negli ultimi decenni dei cambiamenti demografici piuttosto importanti, le persone anziane sono aumentate, nel 47 si parla del 40% di popolazione anziana e l'anziano chiaramente deve essere non più quello che si vedeva una volta, deve essere attento, sano, avere un buon stile di vita, preparato tecnologicamente perché come abbiamo visto in questi ultimi tempi bisogna essere padroni dei mezzi tecnologici proprio per poter comunicare e sopravvivere. Generazione Silver vuol fare tutto questo, essere vicina non solo ai nostri associati di 50+, la trasmissione dell'associazione 50+, che è una costola di commercio, ma adesso si è resa autonoma ed è vicina un po' a tutti gli anziani in generale. Abbiamo un obiettivo molto importante, far sentire l'anziano più fiducioso in se stesso, nei propri mezzi, più attivo, quindi presenteremo non solo conferenze, interventi di esperti, ma anche incontri con personaggi della provincia più o meno noti, anzi alcuni sono proprio delle curiosità, siamo andati alla scoperta di qualcuno che dimostri che anche l'anziano può essere giovane, creativo, avere delle idee, fare delle cose e insomma vogliamo fare un'iniezione di fiducia e fare anche un po' sorridere qualche volta.